Nella nuova gamma Back to School introduciamo due nuove colorazioni alla nostra gamma di Nettung, questo in particolare si chiama Pretty Pink, questo rosa con questa tecnologia in print 3D, muovendo la cover del prodotto e dall'idea quasi che le finiture siano in tre dimensioni. All'interno il touchpad richiama la fantasia che c'è sulla cover. Il prodotto è dotato inoltre dello schermo con Infinity Glass, quindi non c'è il porto tra il monitor e il resto del notebook. Questo prodotto avrà un hard disk a 250 giga, batteria a 6 celle e sarà posizionato a 369 euro. Per quanto riguarda le interfacce, il prodotto è dotato su questo lato, il Kensington Lock, l'interfaccia Ethernet, due porti USB, il card reader, le casse sulla parte frontale. Sull'altro lato abbiamo l'ingresso per le cuffie, un'altra USB e l'uscita VGA. un'altra cosa importante di questo prodotto è che il fondo ha la stessa fantasia della cover.